direi che veramente questo può essere considerato il big match della giornata la speranza è di assistere a una bella partita entriamo subito in cronaca diretta con subito una situazione di pericolo per la formazione novarese Palbo all'indietro per Brusa ancora Brusa cerca spazio va la conclusione attenzione a Stefani ancora Pochettino cerca di andare alla conclusione il tiro attenzione ancora la doppia parata bellissima da parte di Bernardelli va a recuperare Brusa e fa ripartire Gallotta ma capisce tutto Pochettino la conclusione la rete di Pochettino la rete di Pochettino che ha sfruttato un errore nel disimpegno ancora Federico Ortiz in possesso di pallina Ortiz 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 non va alla conclusione e c'è il rigore parte Federico Ortiz che va al tiro della rete si conferma veramente implacabile sono Ortiz è solo Federico Ortiz 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 e l'appoggia alle spalle di Moncalieri Federico Ortiz il giocatore argentino e la formazione novarese buona guardia in difesa Beato Beato va alla conclusione pericolosissima ancora Emi per Beato ancora Beato ha spazio per andare alla conclusione la ribattuta di Brusa è rimasta lì in mezzo sulla stecca di Maniero che va al tiro del gran gol il diagonale di Giorgio Maniero Tudela cerca spazio Tudela la conclusione la parata sicura pista al posto di Maniero ancora Gallotta Gallotta c'è spazio ancora Gallotta Gallotta la girata la grande parata di questo primo tempo Beato ha spazio sulla zona sinistra della pista la conclusione è la rete di Pochettino per la sua doppietta personale in frattempo è ripreso l'incontro in porta Moncalieri Pochettino intanto seguiamo subito questa conclusione di Ortiz Pallina però che rimane attenzione sulla stecca dei giocatori del Modena che va alla conclusione pericolosissima Maniero per Fortina la conclusione di Fortina termina a lato 4-4 Novarese ancora pochettino attenzione pochettino entra in aria c'è poi la chiusura c'è il rigore c'è il rigore ma francamente lascia qualche dubbio parte Peter Emy la parata la parata di Tommaso Bernardelli che poi rigore parato quindi Novara che mantiene la rete di vantaggio ancora Peter Emy e ancora Bernardelli protagonista recupera ancora Brusa Brusa attenzione al break della formazione Novarese Brusa il diagonale di Brusa e il grande intervento di Moncalieri e la rete di Federico Ortiz sulla grande intervento sulla grande parata di Moncalieri Maniero ancora in mezzo cerca la deviazione volante Ortiz fa buona guardia Moncalieri perde la pallina Fortina per Ortiz ancora Ortiz 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 ancora Bozzetto fermato da Ortiz attenzione ancora Ortiz Ortiz il diagonale e ancora Federico Ortiz la sta decidendo lui buona giocata della formazione Novarese attenzione in mezzo e l'uscita provvidenziale ancora dell'estremo difensore azzurro il tiro 1 con Tudela in grado di ripeto su questo tiro 1 parte Tudela 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 del gol ed è il gol di Tudela questa volta è stato implacabile il bomber ancora Brusa per Maniero la doppia finta Maniero il tiro e il gol il gol con la deviazione sfortunata di Cunegatti e finisce e finisce con la vittoria della formazione Novarese con gli applausi del pubblico dell'ottimo pubblico dello Stefano Dallago è veramente tutto qui dal palazzetto dello sport Stefano Dallago ricordiamo il risultato finale dove l'Azzurra Hockey Novara ha vinto 7 reti a 3 sulla formazione del Modena nel big match della seconda giornata del campionato di serie A2 di Hockey di serie A2 di serie A2